I carabinieri di Sala Consilina, gli ordini del capitano Davide Acquaviva, hanno tratto in arresto un minorenne pregiudicato per evasione, furto, recettazione e guida senza patente. Il giovane di origini rumene sostava a bordo di una nuovettura Fiat Panda, di colore grigio presso l'area di servizio di Sala Consilina, Sida, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, per fare rifornimento di carburante, una volta effettuato il pieno, per circa 80 euro, la stessa metteva in moto e si dava precipitosa fuga sull'autostrada in direzione sud. I carabinieri della compagnia hanno intercettato subito il veicolo che a seguito di accertamenti risultava provento di furto occorso nella notte del 13 agosto scorso in Battipaglia. Dopo l'inseguimento lo stesso veniva bloccato sulla SS517 Bustentina, dei militari della sezione di Buonabitacolo, che lo traevano in arresto. L'autovettura Fiat Panda sarà restituita al legittimo proprietario. Il minore è risultato altresì evaso l'11 agosto scorso da una comunità per minorenni di Caserta, dove era sottoposto agli arresti domiciliari e lo stesso veniva altresì deferito per guida senza patente, con l'aggravante della recidività. Il minore è stato tradotto presso l'Istituto Penale per Minori di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria per minori. Grazie.